Abbiamo dato una grande dimostrazione e questo era fondamentale. Ti rifaccio la stessa domanda che ti avevo fatto tre mesi fa. Questo gruppo per qualità di gioco, per compattezza, somiglia molto alla tua prima esperienza in maglia bianca-azzurra. C'era Zermann e sappiamo tutti com'era finita quell'anno, sei d'accordo? Io mi pare che ti ho risposto che c'era ancora tanto da lavorare perché... Però sono passati tre mesi quindi? Quindi dobbiamo ancora lavorare ecco perché la strada è ancora lunga, mancano 4-5 mesi e le due davanti vanno forti. Gianluca, all'inizio di stagione avevi detto Miro alla doppia cifra. La doppia cifra si sta avvicinando a grandi passi. Sì, l'ho detto, però adesso che ci sono vicino voglio superarla ampiamente e spero di farlo. Quindi devo continuare a lavorare così come sto facendo. Erano anni che aspettavo questo momento perché sapevo delle mie qualità. Spero di continuare così. Ecco, nel primo tempo mi sei piaciuto particolarmente quando avevi Memushay vicino, quando Memushay faceva il centro-sinistra. Raccontaci un po' come avete dialogato lì in mezzo al campo la tre quarti perché il Perugia, lo possiamo dire, non ci è capito nulla. No, ma sì. Abbiamo davanti, abbiamo tanta qualità sia il centro-campo che davanti. Quindi ci troviamo molto spesso con le mezzali, cercare sempre scambi vicini. Tante volte arriviamo al tiro. Grazie.